Amici di risonanza e musica, buonanotte, eccoci qua. Angeli nella notte, siete pronti per ascoltarci? Non vi sento, no, io non vi sento. Ah sì, eccovi qui, ci siete tutti, siete online, vi vedo qui dalla chat di Facebook. Bene, questa sera un pezzo nel vivo della nuova rubrica di Radio Risonanze. Il live music set di Risonanze e musica. Avrete il piacere di ascoltarci da vivo. Alle tastiere Riccardo Prestiani, campane tibetane Mary B, voci Risonanze e musica. Grazie a tutti. 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 Risonanze e musica. 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 Giusy, Christian, e poi, e poi, a Simone, giusto, e poi, e poi, e poi, e poi, ah, 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 buonasera Saverio, grazie, grazie del messaggio, un saluto da Risonanzi in Musica Soul Sounds, grazie. Se qualcuno vuole mandarci messaggi via chat, sappiate che siamo connessi, quindi potete scriverci, vi risponderemo in diretta. Intanto vi coccoliamo con i nostri sounds. Ah, eh 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 Ah Ah, eh Ah 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti